Queste le parole del bardo cosmopolita Roberto Saviano, il quale così ha cinguettato poche ore fa. Lukashenko è un dittatore al potere dal 94, ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risultati elettorali, accendere luce sui fatti in Bielorussia e far circolare le informazioni dei dissidenti e il primo passo contro la sua dittatura populista. Queste le vergognose e infami parole del bardo cosmopolita che devono davvero essere oggetto di meditazione. Con queste parole è tornato a tuonare dalle turrite cime del suo sontuoso attico di Nuova York, è tornato a tuonare dal sontuoso attico di Nuova York dopo aver deposto le titillevoli aragoste rubiconde e il Don Perignone ghiacciato con i quali titilla il suo palato nobiliare. È tornato a tuonare cinto da noi a Patrizia e come sempre osanna al potere globalista e invoca la rivoluzione colorata. Perché non mi stancherò di dirlo, Saviano è l'intellettuale giusto per l'ordine dominante, è il più fidato pretoriano del pensiero unico politicamente corretto. La sua funzione è una sola, fingere un'opposizione che in realtà rinsalda il consenso. La sua funzione è sempre quella di mantenere l'ordine dominante, di svolgere la parte del finto dissidente che in realtà dissente rispetto al vero dissenso e così facendo rinsalda sempre da capo l'ordine dominante. Queste ancora una volta le vergognose parole del bardo cosmopolita che rinsaldano l'ordine dominante e rivelano quella che potremmo chiamare la miseria del pensiero unico dominante.